Tutti pronti a bovesci, con le bestie stavano all'alerta! Ehi, non serve tempo! Lasciatemi! La mia lama ha sette di più! Ce l'ho portata! Forza, insieme! Mi serve tempo! Devo proseguire! Dovevate uccidermi? Ora siete spazzati! Dovevate uccidermi? Siamo un muro! Non puoi fuggire! Eccoti qua! Grazie a te! Ora! Forza, insieme! Non ho trovato nulla! Sei Bayek di Siwa, vero? Ho sentito parlare di te, il Mejjay che ha attraversato il deserto! Io sono Teodoro! Uno dei tanti che si è ribellato alle guardie! Per questo eri in quella gabbia? Già! Un assalto fallito! Sto cercando del rato! Un crudele generale tolemaico che detesta gli egiziani! Ha ucciso uomini, donne e bambini! Non avrò pace finché non sarà morto e sepolto! Mi darai il tuo aiuto? Certo! Capisco la tua ira! Benissimo! Ci riuniremo ai miei uomini a Bacchias! Vieni con me! Cosa spinge un greco a lottare per la causa degli egiziani? Mio padre era egiziano, mia madre greca. Tanto tempo fa, ho rinnegato del tutto le mie origini greche e ho giurato di liberare l'Egitto dagli uomini come del rato. Ci eravamo vicini. L'avevamo trovato, ma i suoi uomini erano in troppi. Così ci siamo ritirati. Ma una truppa di esploratori mi ha catturato e torturato per estorcermi informazioni. Ripariamoci qui e aspettiamo il momento giusto per colpire. Mi farò aggiornare. Proteggiamo il LEP! Taglio la gola! Linea di tiro libera! Non hai alcuna speranza! Mi ammazzo! E invece li hai condotti in trappola? Astuto! I miei fratelli mi avrebbero salvato, ma non pensavo di vedere il Mejjay di Siwa tra loro. Sei piuttosto famoso tra i miei uomini. Siamo stati per anni dietro a Rudjek, per poi scoprire che tu l'avevi eliminato da solo. Non possiamo definirci alleati, ma sembra che a volte i nostri obiettivi coincidano. non credi? Non credi? Cani! Hanno mandato delle sentinelle! Teodoro! Derrato non è all'accampamento! È sparito! Derrato è sparito! Merda! Continua a sfuggirmi! E adesso? Ci facciamo furbi! Possiamo conquistare due vittorie con un colpo solo. Aspettiamo che Derrato torni all'accampamento. Ho saputo che il suo scriba personale è rimasto a Karanis. C'è una tempesta! Noi non possiamo muoverci in città. Li avremo subito addosso. Ma non sanno di te. Pensa a portarci lo scriba e ci faremo dire quello che ci serve. Come lo trovo? Di notte riposa all'interno del cortile. Di giorno lo trovi al lavoro nei pressi del tempio o sulla terrazza che si affaccia sul lago. Veste in modo elegante. E per via dell'assalto fallito ora si circonda di guardie. Lo riconoscerai. So pronuncio che gli scerzi. So! 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 Du miten sia soggine. So! 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 a 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 indietro questo non è affar vostro tornate a fare quello che dovete fare dovete seguirmi proprio dappertutto a sei lì ecco lo scriva ubriato e perso nel sonno devo dirgli di ammazzare il raccolto non non rimarrà privo di sensi a lungo devo portarlo subito da te odoro non 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 ma è così ma è come non con Alza il vento, e con lui la sabbia. Il vento, e con lui la sabbia. È lui! Ben fatto! Ora scopriamo quello che sa. Nel frattempo, sarà meglio preparare l'attacco. Alcuni dei nostri fratelli attendono a ovest di Soknopayu. Va da loro, e aspettate il mio arrivo. Ci libereremo di quel bastardo. Uno scriba che conosce molto bene Karaniss. Derrato, dove si trova? Io non... non ho mai sentito questo nome. Ci prendi per idioti! Vi prego, basta! Allora parla! E spezzeremo le dita! No! Poi i bolsi! No, vi prego! Dov'è Derrato?